Qui abbiamo due cervelli umani. Apparentemente sembrano due cervelli identici, invece no. Questo è il cervello di una persona buona. Questo è il cervello di una persona cattiva. Come in Frankenstein Junior, nel film di Mary Brooks, dove c'è lo scienziato che deve impiantare un cervello umano dentro la sua creatura. Però si sbaglia, non prende il cervello normal, prende il cervello abnormal e la sua creatura si trasforma in un mostro orrendo. Ma è vera questa roba qui? È vero che la cattiveria è da qualche parte nel cervello? È vero che la criminalità è una malattia? Ha a che fare con la pazzia? Se fosse vero, avrebbero ragione quei criminali che utilizzano questa teoria, questo pregiudizio così radicato in noi, per scagionarsi, per dire no. Scusate, attenzione, uomini della corte, non è colpa mia. È vero che ho ammazzato 12 persone, è vero che ho fatto un sacco di brutte cose, ma non è mica colpa mia. È colpa di qualcosa che ho qua nel cervello, una pieghetta nel cervello che mi obbliga a farlo. Quindi è colpa di questa mia malattia, di questo baco. Io sono innocente. Cosa c'è di innato nel comportamento violento? Criminali si nasce o si diventa? Sono domande che si fanno da sempre storici e scienziati, alla ricerca delle cause del male e delle ragioni della malvagità. È il concetto di follia che cambia quando, alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, si comincia a studiarla, ad approcciarla dal punto di vista scientifico, cioè a non considerare più ineluttabile l'esistenza del pazzo. Le scienze sperimentali oppositive ritengono che si possa trovare una spiegazione causale di qualsiasi tipo di comportamento. E qual è, diciamo, l'organo, la struttura biologica che dà luogo al comportamento? La struttura biologica che dà luogo al comportamento è il cervello. La speranza di molti e l'illusione di alcuni è che la spiegazione fosse proprio lì, nel cervello dell'uomo. A cominciare da Cesare Lombroso, medico e studioso, sulle cui teorie il mondo ha riflettuto e fantasticato. Lombroso cercava di tirar fuori i tratti del delinquente attraverso l'osservazione di caratteristiche morfologiche, quindi il comportamento, l'altezza, la forma del naso, la forma della testa, la forma delle orecchie, che, appunto, potessero essere indicatori di una degenerazione, cioè di una regressione a uno stato più primitivo, uno stato più tribale e quindi a uno stato più antisociale. E non c'è niente di più antisociale della figura del pazzo. I primi a capirlo sono stati i propri criminali, che hanno scelto la maschera del matto per sfuggire alle proprie responsabilità. Un conto è domandarsi se alcuni comportamenti criminali possono essere legati a un qualche tipo di alterazione psicologica o quindi di cambiamento funzionale. Un altro conto, invece, è l'uso della diagnosi psichiatrica fatta su persone che sono criminali, non tanto per stabilire se effettivamente il loro comportamento, il crimine commesso, fosse collegato con delle particolari condizioni psichiatriche, quanto piuttosto la diagnosi fatta in funzione, diciamo, di dare un beneficio a colui che viene così diagnosticato. Fingersi pazzo serve come scamotage non tanto, come dire, per avere meno potere, ma per avere più potere. In fondo il pazzo è uno che ha una libertà molto più ampia. Il matto è la caricatura di se stesso, un personaggio da sempre caro al teatro e alla letteratura. Per questo appunto ritroviamo questa modalità, questa pazzia simulata, per esempio, in moltissime caratteristiche del fool elisabettiano. Nel teatro di Shakespeare ci sono molte figure che si fingono pazzi. lo stesso Amleto, se ci pensiamo appunto a una figura che buona parte della sua follia è una follia autoindotta, che ritroviamo forse appunto nella figura di pazzo simulatore più famosa che è quella del Rigo IV. E poi che riescono a imporre loro parole? Parole, parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Eh, ma si formano anche così le cosiddette opinioni correnti e guai, guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste cosiddette parole che tutti ripetono, che so, pazzo. Oppure che so, imbecille, ma dite un po', ma si può star quieti a pensare che c'è uno che si affanna a persuadere gli altri che voi siete come lui vi vede, a fissarvi nella stima degli altri secondo il concetto che lui si è fatto di voi. Pazzo! Pazzo! Io faccio l'attore da quasi vent'anni. Questa cosa che si dice che per fare l'attore bisogna essere un po' pazzi, che è una cosa molto banale, è banale perché è vera. Essere attori vuol dire essere in grado di distruggere il proprio cervello, il proprio modo di vedere le cose, vedere le cose con gli occhi di un altro. La letteratura e il teatro di tutti i tempi sono piene e strapiene di questo topos fondamentale che è non tanto il pazzo, quanto il finto pazzo. Il primo finto pazzo della storia della letteratura è Ulisse, che sparge sale sulla spiaggia quando Palamede, messaggero di Agamennone, va a ruolarlo per la guerra di Troia. Palamede sgama subito questo suo stratagemma perché gli pone davanti all'aratro Telemaco e quindi Ulisse, pur di non ammazzare Telemaco, confessa appunto di non essere così pazzo. In realtà Ulisse si finge pazzo perché sapeva, gli era stato predetto che la guerra di Troia sarebbe durata così a lungo e che lui sarebbe tornato a casa, a Italia, soltanto dopo vent'anni e senza più nessuno dei suoi compagni. Quella del matto è dunque la finzione perfetta per sfuggire alla propria identità, respingere le proprie colpe e talvolta sfidare il codice penale. Secondatelo, è pazzo! Il nostro codice penale contempla due ipotesi di utilizzo giudiziario della follia. L'infermità di mente e la semi-infermità di mente. Il principio generale è che chi è incapace di intendere di volere non può essere assoggettato a una sanzione penale. Chi è parzialmente incapace di intendere di volere può essere assoggettato solo in parte a una sanzione penale. Spesso noi abbiamo trovato storie criminali di soggetti che hanno scelto la strada del passare per pazzi per accedere ai benefici che il sistema penitenziario sempre nel tempo ha previsto a favore di soggetti che hanno queste patologie. Nella mafia tradizionale è piuttosto più sconveniente avere relazioni extraconugali, per esempio, che non esercitare la violenza a un limite estremo tale da farti sembrare uno psicopatico. Anzi, la psicopatia può essere accettata purché ritorni all'interno del sistema. Ma lei perché si ha ingerito questi giorni? Sì, perché sono una malata sperimenta, devo morire, devo suscitare di nuovo. Sono il nuovo messia, sono l'Isaia, capito? Ma ora come si sente? Mi sento benissimo, la Bibbia e il Vangelo l'ho fatto io, capito? Ma ora che fa? Si fa l'operare? No, devo morire, devo suscitare di nuovo, capito? Nella storia della mafia la pazzia è l'attenuante che giustifica i crimini, ma anche la calugna per sfidare i nemici, come fa il boss Luciano Liggio con il giudice Terranova che lo aveva condannato all'ergastolo. Giudice Terranova, come la sua, io per lui provavo semplicemente una commiserazione, se vuoi, perché io mi sono accorto subito, immediatamente, quando abbiamo un piccolo astrito nell'atto dell'interrogatorio, che mi trovavo di fronte a un ammalato. se dietro le varie scrivanie dello Stato ci sono dei psicopatici, direi, la colpa non è mia, è perché non ci fanno le visite adeguate a questa gente prima di affidarci un ufficio. Liggio verrà indicato come uno dei mandanti dell'omicidio del giudice, avvenuto il 25 settembre 1979. Il ricorso alla follia è anche uno strumento, tra virgolette, di vendetta, è lo strumento in mano all'organizzazione mafiosa per squalificare, per esempio, un collaboratore di giustizia, un aspirante tale. La mamma di questo mutolo, se non ricordo male, anche in quei tempi stava al manicomio, quindi era una pazza poverina, quindi era un povero diavolo pure lui e quindi eravamo linci all'assieme. Questo appartiene ad un'antica tradizione, in molti casi la mafia siciliana per esempio ricorreva al piombo, cioè alla soppressione, all'eliminazione fisica dell'avversario come estrema razio. Prima gli si dava del tragediatore o gli si montava contro una tragedia. Ma lo vedi? Ma lo vedi? Lo hai? Lo hai tu ora? Eh, lo spavento negli occhi perché ti sta sembrando pazzo! È vero! E per forza, signori miei, perché? Trovarsi davanti a un pazzo, sapete che significa? Significa trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamente a tutto quello che avete costruito in voi, la logica, la logica delle vostre costruzioni. Eh, cari miei, costruiscono senza logica! Come l'Enrico IV, anche Leonardo Vitale è un uomo che scappa, fugge da se stesso, dal suo destino, dalla sua vita di mafioso. Leonardo Vitale è un mafioso decisamente di secondo piano, mafioso suo malgrado per tradizione familiare. Viene avviato al cursus onormo di Cosa Nostra attraverso una prova di iniziazione che è lo sparo ad un puledro. Vitale esita, lo zio invece lo incita a sparare e lui uccide questo puledro. La prima cosa che fece, anzi che ordinarono di fare, fu di ammazzare un cavallo. Sì. È vero? Sì. Per vedere se era capace di uccidere. E che cosa provò? Anche perché io ero un ragazzo di 17 anni, cosa provare? Le aveva riuscito con un cavallo e poi magari mi affascinava, ecco. Non lo so. E poi quando uccise invece quel tale che ha detto? Quella è un'altra cosa. Leonardo Vitale è un ragazzo con delle serie problematiche esistenziali, caratteriali, umane e a un certo punto, stanco della sua vita, racconta, ma racconta in presa diretta l'esplosione dei corleonesi. Non viene creduto e viene fatto passare per pazzo. Leonardo si autoaccusa e fa i nomi di Totò Riina e Pippo Calò. Parla della commissione di Cosa Nostra svelando segreti che nessuno ha mai raccontato. 40 persone sono arrestate per le sue accuse, ma anche lui finisce in carcere. Ed è qui che viene sottoposto a perizie psichiatriche che lo dichiarano matto. Sindrome paranoide depressiva, reazione depressiva ansiosa causata da manie di persecuzione. Stato dissociativo. Da 20 giorni circa, da quando ha subito il fermo di polizia, appare mutacico e manifesta a tratti impulsività caustromane ed eteroaggressiva. Nell'atto di ricovero è fortemente oppositivo, si esprima monosillabi e ripete, non so niente. La madre riferisce che era in cura di psicoanalettici sedativi col professore Bonavita e che lo stesso ha prospettato l'idea di praticare sismoterapia. Sismoterapia... Vabbè, retrociocca. Lei si considera malato o si considera santo? Eh beh, quello che dico io non è che può avere molta importanza. Che io posso sostituirmi a dei luminari della scienza e dico io, io mi sento bene, mi sento una persona normale. Leonardo Vitale ha il merito di avere scoperchiato, svelato l'organigramma delle famiglie, la loro composizione, i modi e i codici dell'organizzazione. E per questo mette in difficoltà l'intera organizzazione che ricorre allo strumento classico della bolla di follia. Leuccio Vitale viene considerato pazzo, fiorisce una letteratura a contorno di questa leggenda e Vitale viene sostanzialmente disinnescato. Per sette anni Vitale esce ed entra dal manicomio. Se non è matto, Leonardo lo sta diventando. Lo dicono anche i medici. Ma quel che ha detto non l'ha inventato, come dimostra una seconda perizia. Personalità schizzoide, suscettibili di evoluzioni critiche e di sviluppo verso sintomatologie psicotiche. La capacità di intendere e volere era scemata grandemente all'epoca dei fatti, ma non poteva essere esclusa. Pertanto le dichiarazioni rese dall'imputato, o in particolare riferimento ai fatti delittuosi dallo stesso denunciato, debbono essere considerati attendibili. Perché mi hanno dichiarato semi-infermio mentale? Non è stato detto al processo. Perché l'hanno dichiarata semi-infermio mentale? Non è stato detto. Sì, dico, ma secondo lei perché? Perché? Per ritenerla meno attendibile, meno credibile. Ecco, sì, appunto. Quando un mafioso organico a Cosa Nostra decide di collaborare, di svelare i segreti, di violare il patto d'omertà, è sottoposto ad un bombardamento psicologico difficilmente sopportabile. In più, Vitale, è sottoposto al doppio bombardamento, le minacce, le intimidazioni, la bolla di follia. Quindi fu una congiure? Che è la congiure dei pazzi? La congiure? No, ho letto qualcosa sulla congiure dei pazzi. Guardate se è la congiure dei pazzi. Vive questa condizione quasi convincendosi alla fine di essere diventato matto. Viene sottoposto ad un duro trattamento rieducativo, per così dire, e ci mette anche del suo. No, per favore. Facchendo questi servizi così, è lei che vuol dire che vuole farmi uccidere? Perché? Perché? Vuol farmi rimanere sempre così in queste condizioni? La mattina del 2 dicembre 1984, Leonardo va a messa con la madre e quando esce dalla chiesa, un killer gli spara in faccia. Quando verrà ucciso, è una vendetta che arriva tardi, a distanza di molti anni, dalle sue prime dichiarazioni, ma è una vendetta che ha un sapore didascalico importantissimo. In quel preciso momento, Cosa Nostra inizia a smottare con le prime dichiarazioni che arrivano prima da fonti confidenziali, Fontorno e Buscetta, e poi verranno verbalizzate e diverranno il monumento intorno al quale viene edificato il maxiprocesso. Uccidere vitale significa dire che questa è la fine che fanno tutti coloro i quali provano a violare il patto d'omertà. Semi-infermità mentale uguale male psichico, mafia uguale male sociale, mafia politica uguale male sociale, autorità corrotte uguale male sociale, prostituzione uguale male sociale, sifilide, queste di galle, uguale male fisico che si ripercuote nella mente malata sin da bambino, crisi religiose uguale male psichico derivato da questi mali. Questi sono i mali di cui sono rimasto vittima. Io, Vitale e Leonardo, risorto nella fede del vero Dio. Dopo Vitale, altri collaboratori saranno etichettati come matti dagli uomini d'onore. Ma la pazzia è soprattutto un espediente che i mafiosi usano per sfuggire alla condanna. L'ultima spiaggia di una follia lucida e consapevole. Un mafioso di solito è un uomo razionale, estremamente logico, che ricorre all'uso della violenza in caso estremo, perché anche la pallottola costa. I mafiosi sono dei grandi ragionieri del crimine e hanno sempre in mente i piccioli soldi. Rispetto alla violenza si sa che le persone sono diversamente aggressive. Vi sono individui che vengono al mondo con un gene che codifica per un particolare enzima e queste persone, se crescono in famiglie dove non sono maltrattati, non manifesteranno una particolare carica di aggressività. Se invece questi ragazzi crescono in famiglie dove sono enormemente esposti alla violenza, quando sono adulti saranno particolarmente predisposti all'aggressività. Asseminare il terrore attraverso anche modalità brutali di esecuzione non è una manifestazione di follia, ma un esercizio di paradossale razionalità criminale. Serve a compattare il gruppo, a evitare pericolose fughe. È un esercizio della crudeltà che potrebbe apparire addirittura macchiavellico, nel senso che Macchiavelli attribuiva la necessità per il principe di essere immediatamente crudele e di una crudeltà tale che nessuno avrebbe mai più osato sfidarlo ad esercitarla. E' necessario questa natura, saperla bene colorire ed essere grandi simulatori e dissimulatori. Ad un principe, ad un principe, ad unque, non è necessario infatto avere tutte le sovrascritte qualità, ma è ben necessario parere d'averle. Anzi, ardirò di dire questo, che avendole e osservandole sempre sono dannose. Parendo d'averle, sono utili. E ha sì ad intendere questo. Che è un principe, Massimo è un principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono tenuti buoni, essendo egli spesso necessitato per mantenere lo Stato, operare contro alla umanità, contro alla carità, contro alla religione. Mi diceva sempre che volevo far diventare ai posti, volevo far passare ai posti della storia. Giustamente non mi potete rubare altri 2009, che mi hanno rubato tutto, ma i miei pensieri, e nel mio animo non mi riuscivano a rubare niente. C'è un uomo che con la follia ha giocato in modo diabolico e sinistro, Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova camorra organizzata. Il boss più scaltro e sanguinario della storia della camorra napoletana. Lei è già stato interrogato più volte. Che cosa può dire a proposito di questo omicidio? E sono stato interrogato per questo, perché sono tanti processi che non mi ricordo. Cutolo è sottoposto a 11 perizie psichiatriche. Nel 1977 viene dichiarato infermo di mente e rinchiuso nel manicomio criminale di Aversa. Raffaele Cutolo evase facendo saltare in aria a mezzo al manicomio giudiziario di Aversa e definì la sua fuga il mio rumoroso allontanamento dall'ospedale di Aversa. Qualche volta mi sono allontanato, ecco, come da Aversa, il processo che stiamo facendo, allontanato, no evasa. Un po' rumorosamente, l'ho fatto per dare una smacca alla restrizione. Già quando commette il suo primo omicidio a 22 anni, dice che sparò perché aveva sentito una forza enorme dentro di sé. Anni dopo, arrestato per una sparatoria, verrà difeso così dall'avvocato Francesco Gangemi. La sindrome clinica di cui è affetto, come risultano numerose perizie psichiatriche inatte, è costituita da epilessia, psicomotorio o fondo paranoicale in degenerazione del carattere. Poi viene condannato in primo grado una volta, però giudicato in appello non capace di intendere di volere e quindi qui si parla di padre alcolizzato e turbe sessuali e del fatto che lui verrebbe assistito a un omicidio da piccolo. In realtà di questo omicidio non c'è traccia. Il papà faceva il sacristano e lo chiamavano omonabo. Ma è proprio nelle carceri che Cutolo mette in piedi il suo esercito e tesse la sua tela di rapporti con uomini dei servizi, terroristi, criminali di ogni parte d'Italia. Cutolo fu protagonista di una vera e propria trattativa con organi dello Stato al tempo del sequestro di Ciro Cirillo. Cutolo chiede e ottiene soldi, appalti e un pacchetto di perizie psichiatriche compiacenti che entrano quindi in una trattativa Stato e mafia. Perizie in cambio di una mano a trattare la liberazione di un ostaggio. Cutolo non è matto per niente, anzi gioca la carta della follia per ottenere vantaggi. Psicosi primaria paranoica in soggetto con epilessia psichica e lo definisce un pazzo intelligente. che ha capacità di intendere ma non di volere. Cutolo è in carcere da più di trent'anni e oggi sconta quattro ergastoli al 41 bis, fa i conti con il proprio passato e custodisce ancora molti segreti. I giudici lo definiscono dal punto di vista psichiatrico talora come totalmente pazzo, talvolta come il più saggio degli uomini. Avete sentito che avevo detto a Pazzo, non sono pazzo scemo, sono pazzo intelligente. Quindi non è che io schiaffeggio uno, lo minaccio di morte e poi lo ammazzo. Non mi vado a prendere gli ergastoli. Nell'immaginario criminale il soprannome di Pazzo è diventato per decine di camorristi un sigillo con cui ostentare potere o un marchio dal quale fuggire. Vanto e vergogna che accomuna generazioni di criminali uniti dalla ferocia e dalla follia. Alla fine degli anni 70, fingersi pazzi diventa una moda. Gli studi di alcuni periti si riempiono di boss della mafia e dell'andrangheta, banditi dagli occhi di ghiaccio e terroristi di destra e sinistra. Il 1978 è l'anno del boom delle perizie psichiariche compiacenti. Ed è l'anno in cui, mentre la psichiatria ufficiale corre verso la riforma della legge 180, quella cioè che sancirà il fatto che i pazienti psichiatrici hanno gli stessi diritti degli altri pazienti e toglierà ai pazienti l'etichetta di matto, di fatto c'è un circuito che si muove sotto banco e che fa di tutto per restituire ai suoi clienti, in questo caso i boss della criminalità organizzata, quell'etichetta di matto. C'è stata una stagione tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 nella quale l'ospedale psichiatrico giudiziario era una sorta di hotel nel quale trovavano rifugio i più importanti boss esponenti della malavita. Ciò poteva avvenire grazie a delle perizie compiacenti. Grottesche, contorte, criptiche, con strane parole rubate a Emanuele di medicina. Queste perizie psichiatriche sono dei veri e propri testi di teatro che per decine di mafiosi hanno significato sconti di pena, arresti domiciliari o addirittura per alcuni anche lasciapassare per la libertà. Sono state fatte da alcuni medici, corrotti ovviamente, che hanno venduto l'anima al diavolo e l'hanno fatta per un mucchio di soldi. Il più famoso di questi luminari della psichiatria si chiama Aldo Semerari. Semerari è stato un maestro della medicina legale e della psichiatria forense. Sui suoi testi si è formata più di una generazione di giuristi. Chi vi parla ha studiato sui manuali del Semerari. Semerari è l'esempio di come attorno a delle figure di grande importanza scientifica in quegli anni si coagulano interessi che riguardano la P2, la massoneria, i servizi deviati, la mafia e la politica. Psichiatra forense e ideologo delle versioni nera, alla fine degli anni 70 Semerari ha un punto di riferimento trasversale per criminali di ogni estrazione. A lato della sua luminosa carriera accademica e universitaria lo troviamo coinvolto come consulente di parte, ma anche come perito d'ufficio, in una serie di perizie, al termine delle quali vari culto, ma anche boss dell'opposta sponda camorristica, si ritrovano infermi di mente o semi-infermi di mente o comunque oggetto di attenzione. Cosa dovevate accertare con la perizia che vi veniva richiesta? Beh, anzitutto dovevamo rispondere ai soliti quesiti posti dagli articoli 88 e 89 del codice penale, cioè quale fosse lo stato di mente al momento del fatto e se tale stato di mente avesse abolito o scemato grandemente la capacità di intendere o di volere. Il mercimonio di perizie compiacenti è un mercato che, cosa nostra, ma anche le altre organizzazioni, i camorra e i drangheta, hanno coltivato negli anni con particolare successo. Sono gli anni in cui Cutolo racconta di avere una malformazione al collo, per cui se lo toccano impazzisce e non può controllarsi. Sono gli anni in cui Umberto Ammaturo ha delle consulenze in cui c'è scritto che parla con i muni. Sono gli anni in cui i capi della banda della Magliana sono tutti periziati, così pure i corleonesi, Luciano Ligio per esempio. Semerari finisce nel gorgo della lotta intestina tra nuova famiglia e NCO e è ucciso per questo. L'hanno trovato decapitato a poche centinaia di metri dalla casa e dal castello di Raffaele Cutolo. Il cadavere orrennamente sezionato era in una 128 rossa, in una strada del centro di Ottaviano, alle falde del Vesuvio. Nel portabagagli il corpo del professore Aldo Semerari, le mani legate dietro la schiena, al volto in una busta di cellofan. La testa, in una bacinella di plastica color arancione, coperta da un asciugamani, era sul sedile al fianco del posto di guida. Secondo le indagini, Aldo Semerari muore per aver prestato servizio a troppi boss in contrasto tra loro. A ucciderlo è Umberto Ammaturo, nemico giurato di Cutolo. Non sarà l'unico psichiatra ad essere assassinato in quegli anni per collusioni con i clan. La perizia psichiatrica spesso è l'ultimo anello di una catena invisibile, che però mette insieme una serie di pezzi e passaggi di potenziali corruzioni. Nel nostro codice, la perizia psichiatrica è disposta dal giudice su richiesta delle parti, ma il perito può essere anche nominato d'ufficio. La consulenza può fornire elementi di prova al pari di documenti e testimonianze. Per un magistrato, la perizia appartiene al grande genus, alla grande famiglia della prova scientifica. Il perito è un professionista e il professionista risponde, secondo scienza e coscienza, agli strumenti per accertare o meno la sussistenza dell'infermità mentale. Le deviazioni dovrebbero essere patologiche, perito corrotto, perito incapace. Ai periti, i giudici chiedono di esprimersi sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti, sulla compatibilità con il regime carcerario, sulla capacità di stare in giudizio e sulla pericolosità sociale. È chiaro che da ciascuno di questi quattro quesiti derivano potenziali vantaggi enormi per i clan. Impunità, quindi proscioglimento, sospensione della pena, riduzione della pena e scarcerazione. A partire dal 2005 anche i disturbi di personalità sono considerati fonte potenziale di infermità o di semi-infermità di mente, allorché siano gravi e si dimostri che hanno avuto incidenza sul delitto che è stato connesso. Tale volontarietà può dipendere anche da altra situazione, anche di carattere psicologica o psichica, che mi pare che necessita di un'attenzione in questo momento. Quindi io chiedo eventualmente una perizia medico-legale per accertare... Oggi anche in Italia noi abbiamo già avuto due o tre sentenze in cui delle persone si sono viste ridurre la pena sulla base del fatto che sono stati fatti degli studi di carattere neuroscientifico e appunto a queste persone è stato in sostanza detto tu sei predisposto a comportarti in questo modo e quindi io ti reduco la pena. E questo appunto è una cosa che avrebbe mandato, diciamo, invisibilio il buon Lombroso. Le norme ruotano attorno al concetto di semi-infermità mentale che spesso ha diviso giuristi e scienziati. La semi-infermità mentale può esistere nel senso che una persona poteva essere mentalmente inferma nel momento in cui ha compiuto l'atto. O una persona intende le conseguenze del suo gesto o non le intende. L'idea stessa che possa intenderle soltanto in parte è un'idea che credo cozza contro la natura e la cultura. Io concludo chiedendo il proscioglimento, anzi la non punibilità, per totale infermità di mente. Oggi sono sempre più numerosi i casi in cui gli psichiatri forensi sono chiamati a dare le proprie consulenze a giudici e investigatori. Se un delinquente viene dichiarato matto da un perito e non lo è, in realtà è perché il perito lo ha voluto dichiarare matto. Ma oggi non è assolutamente possibile fare diagnosi di finti disturbi psichiatrici se si sceglie accuratamente il perito. E quindi chi sono i veri matti? I mafiosi che compiono delitti disumani o noi che crediamo alla loro pazzia? È più matto chi fa esplodere le bombe con una minaudita ferocia o chi dice voglio la mamma quando viene arrestato? Agostino Badalamenti era un mafioso della famiglia di Porta Nuova, una delle famiglie più importanti del centro di Palermo ed è probabilmente l'unico mafioso che è stato arrestato nella flagranza del reato. Racconta un'improbabile storia. Ho ucciso quell'uomo perché avevo fretta di telefonare e lui teneva occupata la cabina telefonica. Viene condotto in caserma e immediatamente comincia a dire voglio la mamma. Agostino Badalamenti si sente braccato e chiama la mamma come un bambino indifeso. Mortificare se stesso è l'unica strada per salvarsi. E quindi c'è questo voglio la mamma che comincia nel 1978 e prosegue per tutto il lungo periodo in cui lui si troverà all'interno del manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto. Ho udito il proclama del mio esilio e sono sfuggito la caccia grazie alla cavità provvidenziale di un tronco d'albero. Non è libera alcuna via di scala. Non vi è luogo dove guardie e un'eccezionale vigilanza non siano appostate per catturarmi. Finché potrò sfuggire mi salverò. Io ho pensato di prendere il più vile e il più misero aspetto che mai l'indigenza e l'isprezzo dell'uomo avvicinò alla bestia. Mi imbratterò la faccia di su di sciume. Mi coprirò i lombi con una coperta. Mi ridurrò i capelli in tanti cornicchi. E con la mia nudità scoperta sfiderò i venti e le persecuzioni del cielo. Così sono ancora qualcuno. Come Edgardo, non sono l'uno. Solo indossando la maschera di miserabile, Agostino Badalamenti può evitare la galera. Un'umiliazione necessaria anche agli occhi dei suoi capi mafia. Non si decide autonomamente di farsi passare per pazzo. È la famiglia mafiosa di appartenenza che ti deve autorizzare. Quell'atto serve a rafforzare il prestigio dell'uomo d'onore. Che in questo modo, sobbarcandosi il manicomio giudiziario, esce dalle strettoie del processo penale, restituito a nuova vita, a nuova impunità, con i galloni del furbo, di chi l'ha fatta franca, di chi è un dritto. Quando poi viene scarcerato Agostino Badalamenti, noi lo troviamo immediatamente al vertice della famiglia mafiosa di Porta Nuova. Siamo intorno al 1999-2000. E le indagini individuano in quel momento come reggente della famiglia l'uomo d'onore che aveva, come dire, il pedigree più nobile. Fingere la follia può diventare anche una strategia condivisa, come nel caso della famiglia Marchese, in cui la farsa si mescola alla tragedia. Filippo Marchese, lo zio, che ha alcune deviazioni sessuali, si eccita all'idea che qualcuno sia in suo assoluto potere e possa morire per mano sua. Filippo ha due nipoti, utilizzati a suo piacimento come killer, come portaordini, come custodi della latitanza di Rina. È il caso di Giuseppe Marchese. Giuseppe Marchese è un killer al servizio dei Corleonesi. È lui ad uccidere nel 1981 Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. Quando viene arrestato, segue i consigli dello zio che gli dice di fare il pazzo. Al giudice che lo interroga, chiede una nave per andare lontano. Pino Marchese è coinvolto nella strage di Bagheria, dove viene repertata un'impronta digitale che viene attribuita a lui dal professor Giacchone. Il professor Paolo Giacchone è il primario di medicina legale a Palermo e proprio per essersi rifiutato di atterrare quella perizia, verrà assassinato da Cosa Nostra l'11 agosto 1982. L'uccidere un perito che ha fatto il suo dovere è naturalmente un segnale verso i periti che verranno, in particolare i periti in quella scienza che presenta notevoli caratteri di libertà di interpretazione che è la scienza che riguarda la salute della mente. Pino Marchese intanto passa presto dal manicomio al carcere e finirà per collaborare con la giustizia, svelando anche il retroscena sulla finta pazia degli uomini d'onore. Le prime dichiarazioni che rende proprio Marchese ai giudici che lo interrogano nel 1992, quando gli viene chiesto se conosce Agostino e Badalamenti, è assai emblematico quello che c'è nel verbale, ha quello che si fa passare per pazzo. Un altro dei Marchese, il fratello, invece, quando verrà arrestato dichiarerà sono Napoleone e proverà a fingersi pazzo subito. Anche per Nino Marchese si aprono le porte del manicomio criminale, dove resterà per tre anni, prima di essere condannato all'ergastolo per numerosi reati. Non è un caso che forse, come dire, la figura simbolica del pazzo sia per antonomasia a quella che si crede Napoleone. L'elemento potremmo vedere rovesciato, il tentativo di fingersi pazzi dei criminali, dei mafiosi, non soltanto come un tentativo di spangarla con la giustizia, ma anche come un tentativo appunto di poter finalmente liberarsi da quelle che poi è il peso terribile appunto del potere. Il mafioso è un matto che finge di essere matto per poter continuare la propria follia. C'è un momento nella storia d'Italia in cui la follia, la finta follia dei mafiosi, viene messa in scena in una specie di teatro dell'assurdo ed è il 1986 a Palermo e c'è il grande e il maxiprocesso alla mafia a causa nostra. La carta della follia al maxiprocesso ha la sua massima rappresentazione. Ci sono boss nelle gabbie che danno di matto, che ingoiano chiodi, che si cucciano la bocca, che dimostrano in tutti i modi di essere diventati matti. C'è il caso dei fratelli Sinagra, chiamati in causa da uno di loro, che si finge matto e accusa i fratelli in modo da disinnescare quella che poi verrà chiamata in giurisprudenza la convergenza del molteplice. Se più pentiti accusano una stessa persona si ha già una mezza prova. Dunque si dà atto che il detenuto Sinagra Vincenzo entrando in cella da inescandescenze profferendo delle grida inintellegibili. Il maxiprocesso darà chiaramente la visione di come Cosa Nostra sta giocando su più tavoli. Il tavolo dell'impunità nel tentativo di far saltare l'intero impianto del dibattimento. Il tavolo delle perizie compiacenti che pure attraversano la microstoria del maxiprocesso, soprattutto nella fase istruttoria, l'intimidazione di professionisti chiamati a confermare con loro perizie alcune emergenze processuali, la cooptazione di professionisti che verranno giudicati nei successivi processi che saranno istruiti sempre dal pull antimafia di Palermo. Sai, zietto, qual è la differenza fra un matto amaro ed uno dolce? No, ragazzo, dimmi. Quel signore che ti dè il consiglio di dar via le tue terre per follia venga a far coppia con me. È la parte adatta a te. Ecco a loro due matti a paro, matto dolce e matto amaro. Uno in veste di buffone è qui, l'altro, eccolo lì. Questo show potremmo anche, credo, interromperlo. Vabbè, allora... Io chiedevo che venisse appontanato, Presidente. Si può dire che non c'è grande processo di mafia che non abbia avuto i suoi finti pazzi. Il maxiprocesso sembrava un ambulatorio di un medico della mutua. Finti pazzi c'erano nei processi sulle stragi del 92 e del 93, nel processo spartacus sui casalesi, nei grandi processi di Camorra negli anni 80. È chiaro che i meccanismi si sono affinati nel tempo. All'epoca era molto gettonata la richiesta di proscioglimento per incapacità di intendere e di volere. E quindi c'erano boss che si fingevano matti in modo anche bizzarro, se vogliamo oggi, con metodi insostenibili. Tra le storie più significative c'è quella di Stefano Calzetta, tra i primi a collaborare con la giustizia e che comincia a fingersi pazzo proprio al maxiprocesso perché le sue dichiarazioni, rese in istruttoria, non siano considerate attendibili. Una volta fuori dal carcere, continuerà la sua finzione per paura di essere ucciso, finendo addirittura a vivere per strada, prima di morire per un tumore. E come mai passa le sue giornate qua davanti alla questura? Mi sono capito cosa vuole, pieghi l'ombra. Davanti alla questura? No, davanti alla questura. Dove mi chiami devo metterla? Non mi chiami per nessuno, non mi chiami per aver paura o meno. Ma se per Calzetta il ricorso alla follia è la mossa della disperazione, per tanti altri è l'asso nella manica per finire in manicomio, un purgatorio più confortevole del carcere che all'inizio degli anni Ottanta è il luogo d'incontro di generazioni di criminali. Nell'ospedale Psicario Giudiziario di Napoli e di Aversa si conoscono la camorra di Cutolo e la banda della Magliana attraverso Nicolino Selis. Quando Pino Marchese si finge matto e viene ricoverato nell'ospedale Psicario Giudiziario di Reggio Emilia, il fratello gli dice tu lì conoscerai un boss che è un po' bizzarro, ma che è lì per ragioni di finte malattie. Quel boss era Marcello Colafigli. Colafigli fu giudicato incapace di intendere di volere in alcuni processi, semi infermo in altri, capace di intendere di volere in altri ancora. Marcello Colafigli è un esponente della banda della Magliana, l'organizzazione criminale che controlla Roma dalla metà degli anni settanta. Quando nel 1980 viene ucciso il capo storico, Franco Giuseppucci, la banda cerca di vendicarlo assaltando il covo dove si nascondono i suoi assassini, i fratelli Proietti. Dopo una sparatoria avvenuta questa sera a Roma nella portineria di uno stabile di via Donna Olimpia. Arrestare ucciso è Maurizio Proietti, detto il pescetto. Tra i protagonisti di quell'assedio c'è proprio Marcello Colafigli che una volta in carcere prova a fingersi pazzo, come racconta agli inquidenti Maurizio Abbatino, uno dei capi, oggi collaboratore. Voglio aggiungere per completezza che il Colafigli Marcello, per come si era d'accordo, in caso di arresto in flagranza di quel delitto avrebbe dovuto dare immediatamente segni di squilibrio mentale, simulando la pazzia. Si era preparato a tale scopo a sostenere di sentire delle voci, in particolare quella di un gatto, che lo ossessionava perché vendicasse Giuseppucci e di vedere ossessivamente in sogno un pesce avente le sembianze di Maurizio Proietti. Colafigli verrà condannato all'ergastolo, ma sconterà gran parte della pena nel manicomio di Aversa. È così che riuscirà a salvarsi dalla mattanza incrociata che ha visto morire gran parte degli esponenti della vecchia banda. Colafigli, dal punto di vista dello spessore criminale, è un uomo che ha dimostrato una certa intelligenza, che sembrerebbe contrastare con la patente di infermo, di semi-infermo di mente, che avesse, diciamo, delle stranezze, detto in alcune perizie, altre lo escludono completamente. La finta pazzia di Colafigli è la dimostrazione del sistema di favori e collusioni che ha permesso ai malabitosi romani di espandersi per più di un decennio. Un esponente della banda della Magliana, Alessandro D'Ortenzi, che veniva soprannuato Zanzarone, raccontò il tariffario in base al quale illustri psichiatri del tempo fornivano prestazioni e alle organizzazioni criminali. Alessandro D'Ortenzi racconta che negli anni 70 ha pagato una perizia 150 milioni. Oggi le cifre sono molto diverse, anche perché si sono moltiplicate le tipologie di servizi che i medici prestano alle mafie, non più complici occasionali, ma professionisti spesso organici alle organizzazioni. Più di recente, durante un'inchiesta condotta dalla Procura di Santa Maria Capoavetere, viene fuori che il clan Belforte paga 50 mila euro le sue consulenze compiacenti e un'indagine che ha riguardato Carmine Fasciani e Pietro Lago, il boss di Pianura, ha descritto un tariffario di 300 euro per un certificato e 5 mila per l'istruzione dell'intera pratica sanitaria. Un mucchio di soldi per i periti che devono spesso inventarsi il modo per tirare fuori dal carcere i propri clienti e talvolta lo fanno con certificati grotteschi, come nel caso di Michele Froncillo, un camorrista agli arresti domiciliari. Dal colloquio clinico emerge una profonda condizione depressiva con spiccata tendenza al suicidio. Oggi mi ammazzo, affermato a un certo punto del discorso con un incombente desiderio di morte. A ciò si aggiunge che il paziente è costretto a vivere in casa e in solitudine, poverino, sviluppando una sofferenza nei luoghi chiusi. Pertanto sarebbe utile ai fini di un miglioramento della sintomatologia di cui il paziente soffre di poter uscire di casa durante il giorno restando così a contatto con la gente e con i parenti e trascorrendo soprattutto delle ore serene fuori della sua normale dimora. I criminali non si sono limitati a fingere la follia ma hanno capito quali altre patologie associare ad essa. I boss poi sono diventati anche molto esperti nel campo. Ci sono molte deposizioni di capi come Luigi Giuliano il re di Forcella che racconta ai suoi militari come devono simulare la follia. L'altro meccanismo molto in voga è quello del dimagrimento patologico procurato. I boss dimagriscono fino ad arrivare ad un livello di peso molto basso e anche pericoloso per la loro salute ma questo gli serve per uscire dal carcere e sfruttano una finta diagnosi dell'anoressia perché l'anoressia è una malattia mentale che ha percorsi di cura molto complicati che non possono essere gestiti nel carcere. Nelle perizie si parla soprattutto di depressione ed epilessia i cui sintomi criminali hanno imparato a simulare. Gli epilettici sono sempre stati considerati esempio di possessioni demoniache in tutta una serie di contesti religiosi soprattutto quelli cristiani e cattolici il fatto che il comportamento criminale sia associato all'epilessia è in qualche modo più un pregiudizio che altro. Le cronache giudiziarie sono piene di malati immaginari e falsi invalidi che provano a garantirsi una forma di immunità. Setola il capo della stragista dei Casalesi che oggi dialoga in qualche modo con lo Stato si è finto cieco per tanto tempo per svelare la sua falsa secità è bastato ai periti abbassare le persiane e socchiudere una porta del centro clinico del carcere di opera e mettere una sedia al centro della stanza. Setola che avrebbe dovuto non vedere ad un palmo dal suo naso vede la sedia si sposta e si siede. E quando non si può fingere una patologia si può diventare malati per l'occasione come ha fatto per anni Nino Rotolo capo mafia agli arresti domiciliari. Lui veniva preavvertito delle visite di controllo dei medici e prima delle visite di controllo dei medici assumeva dei farmaci che gli alteravano lo stato della pressione lo stato sanguigno e via dicendo e quindi a ogni visita lui presentava continuava a presentare le patologie che impedivano il rientro in carcere. Ma anche i criminali possono ammalarsi sul serio inghiottiti dalle ansie e dai rimorsi o dalla paura come può accadere a chi collabora con la giustizia. C'è la parabola di Balduccio Di Maggio che da killer della cosca di San Giuseppe Iato dà un contributo alla cattura di Salvatore Rina si affida totalmente ai carabinieri diventa collaboratore di giustizia poi torna in armi a San Giuseppe Iato sfruttando lo status di collaboratore di giustizia viene arrestato finisce in carcere e lì però accusa una serie di malanni che da un lato cercheranno di condurlo verso la strada della scarcerazione per motivi di salute dall'altro lato però finiranno per inclinare definitivamente la sua credibilità. La sintomatologia riscontrata a carico del Di Maggio è emiplegia sinistra completa monoparesi dell'arto inferiore destro accompagnate da sindrome deficitaria grave attenzione però ben difficilmente potrà sortire un qualche miglioramento in costanza di un regime detentivo si consiglia terapia in ambito familiare per rafforzare le sue spinte motivazionali affettive. Di Maggio è un boss che inizia a simulare i suoi disturbi psichiatrici e a un certo punto però inizia a star male sul serio tanto che i periti non capiscono bene fino a che punto la sua simulazione e quanto invece la sua condizione non dipenda dal fatto che diventato un collaboratore di giustizia non si riconosce più né nel sistema legale né nel sistema criminale a cui faceva riferimento all'epoca. C'è una vistosa perdita di peso la incapacità di deambulare una serie di situazioni che i periti constateranno essere reali nel senso che la sua malattia immaginaria in realtà a un certo punto diventa una malattia vera addirittura il pericolo per la vita diventa reale e oggi la sua situazione di salute è molto diversa da quella che era nel momento di massima crisi. Mi sembra una burla anche questa? Che seguitano a farla i morti la vita? Sì, sì qua è una burla ma uscite fuori no nel mondo vivo spunta il giorno il tempo è davanti a voi un'alba e voi dite no questo giorno che ci sta davanti lo faremo noi ah sì? voi? voi? mettetevi a parlare ripeterete tutte le parole che si sono sempre dette credete di vivere rimasticate la vita dei morti molto spesso ci si trova bene in questa condizione simulare una follia una malattia una condizione alterata a tal punto che effettivamente si sente un impostore un impostore fino in fondo e che quindi vorrebbe essere smascherato alla fine ai finti pazzi tocca tirar giù la maschera e svelarsi per quello che sono e sulla loro farsa che stride contro la tragedia quotidiana di tanti altri detenuti cala mestamente il sipario naturalmente non tutti i detenuti sono finti pazzi la maggior parte dei detenuti soffre veramente il carcere promotore di malattie in carcere ci si suicida 20 volte più che fuori dal carcere il problema è accendere il riflettore su uno dei tanti modi attraverso cui le mafie sfruttano specializzazioni competenze e professionisti e non poter dire io non sapevo anche dall'angolo di visuale di chi fa un mestiere come quello di psichiatra che non c'entra niente con i problemi legati alla criminalità organizzata noi che siamo laici e democratici dobbiamo essere in grado di distinguere tra la razionalità del fenomeno criminale e la follia continuiamo a chiamarla così quando realmente la incontriamo il tipo di fascino che eserce la storia del genere su di noi è dovuto proprio al fatto della potenza simulatrice la potenza simulatrice che è la massima potenza che possiamo possedere da un punto di vista narrativo se riuscissimo non soltanto a fingere per la nostra intera vita ma a far sì che questa finzione sia credibile per molte altre persone potrebbe essere il più grande progetto poetico mai messo mai messo in atto fare che diventasse per sempre non più una durla no ma la realtà la realtà di una vera pazzia sono guarito signori miei sì perché so perfettamente di fare il pazzo e lo faccio qua quieto il guaio è per voi che la vivete agitatamente senza saperla senza vederla la vostra pazzia le vie da un'altra che ci sono e per voi che la vivete noi che la vivete che la vivete ma o sea è pura mese io Grazie per la visione!